Buonasera, benvenuti a questa prima puntata di Eleviamoci, un appuntamento che diventerà fisso sulla nostra emittente. Un appuntamento che è stato voluto fortemente dalla CETEAS Volley Montesilvano per aiutare i ragazzi e tutti coloro che sono in età scolare, quindi dai 10 ai 18 anni, a comprendere quali sono i percorsi, l'importanza del percorso di crescita e soprattutto come sostenere questi ragazzi sia dal punto di vista della scuola, dello sport, ma anche da altre angolazioni che andremo poi a valutare di volta in volta nel corso delle nostre trasmissioni. Questa sera ad accompagnarmi in questo viaggio alla scoperta di quelli che sono i percorsi di crescita dei nostri ragazzi saranno i miei ospiti che vado a presentarvi. Con noi è la dottoressa Natalina Ciacio, già docente di materie letterarie presso alcuni istituti superiori, ma anche dirigente, è stata dirigente nel suo ultimo incarico perché adesso la dottoressa in pensione, del liceo scientifico da Scagno di Montesilvano. Benvenuta. Buonasera. In collegamento con noi dallo studio di Pescara invece abbiamo Caterina Di Michele, la dottoressa Caterina Di Michele, psicologa, psicoterapeuta, che ci aiuterà a capire quali sono gli escamotaggi o comunque se ci sono delle ricette che i genitori in scuola e tutti coloro che partecipano ad aiutare un ragazzo nella crescita possono mettere in atto. Benvenuta, bentrovata. Grazie e buonasera a tutti. Benissimo, così abbiamo fatto anche la prova a microfono. E infine con noi Teodoro Ivano Calabrese che è dirigente di Confindustria ma anche vice presidente dell'associazione sportiva CETE a Svolle in Montesilvano che insomma è colui che questa sera ci accompagnerà nel percorso sportivo di crescita dei nostri ragazzi. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Lo dicevamo poco fa, ci occuperemo di percorsi di crescita ma anche di come poter sostenere i giovani nel loro difficile a volte percorso di crescita. Abbiamo comunque tante figure che ci vengono in soccorso e quando dico abbiamo mi riferisco sia alle famiglie ma anche ai docenti, agli psicologi, insomma tutte le figure che ruotano intorno al percorso di crescita di un ragazzo. Io inizierei però proprio da quella che è la struttura principe, cioè la scuola e quindi chiamerei in campo la dottoressa Ciacio per capire come è cambiata la scuola di oggi rispetto al passato. Oggi agli studenti vengono richieste non solo conoscenze ma anche competenze. Indubbiamente sì, è il mondo che chiede alla scuola di cambiare perché è proprio il mondo del lavoro che chiede maggiormente competenze anziché conoscenze, anche se bisogna dire che non sono avulse le une dalle altre poiché le conoscenze sono lo strumento attraverso il quale noi portiamo i ragazzi ad acquisire le competenze. Le competenze possono essere sia tecniche ma anche competenze di vita, quelle che normalmente si definiscono soft skill e hard skill. Le competenze tecniche sono quelle che insomma la scuola è principe nell'insegnamento di esse, è più semplice in una scuola tecnica dove comunque il ragazzo fa un apprendistato di lavoro già e quindi acquisisce la competenza specifica che lo inserisce nel mondo del lavoro, è più complesso il discorso nei licei, nelle scuole, negli istituti superiori perché è più difficile comprendere il concetto di competenza. Molto sta ai docenti saper insegnare la propria disciplina in quest'ottica. Da docente di lettere porto un esempio che può essere esplicativo. Insegnare il latino, spesso i ragazzi di liceo scientifico chiedono il perché dello studio del latino in un liceo scientifico. Insegnare il latino in un liceo classico, di insegnare un liceo scientifico è molto diverso perché a prescindere insomma l'apporto che può esserci nel contenuto culturale, in un liceo scientifico la funzione dell'insegnamento del latino è quello di sviluppare le capacità logiche soprattutto, essendo quello diciamo il meccanismo cardine dell'ambito scientifico. In un liceo classico i ragazzi andranno a fare gli esegeti, quindi sarà un discorso più strettamente linguistico. Ecco, quando il docente comprende questo e applica la differenza, lì poi c'è, scaturisce insomma l'acquisizione della competenza che potremo sintetizzare col saper fare, il saper essere. Il ragazzo oggi nel mondo del lavoro, il ragazzo si chiede competente in quelle che sono le sue mansioni che andrà a svolgere e saper anche essere, sapersi relazionare, saper condurre un gruppo, saper gestire il proprio tempo. Nelle soft skills subentra però non è solo la scuola quella che può potenziarle o lavorarci su, ma subentra ovviamente anche la famiglia, subentra il mondo dello sport perché capacità relazionali insomma sono un concetto molto ampio. Nella scuola ti relazioni nel gruppo, il gruppo classe, però poi diciamo nel mondo c'hai anche il gruppo sportivo, c'hai anche il gruppo della famiglia, il gruppo inteso come il nonno, lo zio, la mamma, il papà e quindi diciamo che attraverso le conoscenze oggi la scuola guida il ragazzo all'acquisizione delle competenze. Parlavamo di famiglia ma parliamo anche in particolare di quelli che sono gli strumenti o perlomeno gli aiuti che possono avere le famiglie per risolvere i problemi del loro figlio, per aiutarli a risolverli. Dottoressa Di Michele, a questo punto ci viene lei in aiuto perché insomma la famiglia ha un ruolo decisamente importante ma anche talvolta difficile. Come può la famiglia affrontare un ruolo del genere qualora ci fossero delle difficoltà che adesso lei c'è esporrà da parte dei ragazzi, cioè ragazzi difficili, ragazzi che non rispettano le regole, ragazzi non scolarizzati? Allora sì, io vi ringrazio, faccio soltanto una piccola precisazione, sono psicologa, psicologa scolastica e non psicoterapeuta e in quanto appunto psicologa scolastico ho anche collaborato con la dottoressa Ciacio nel liceo da Scania e quindi abbiamo queste esperienze in comune e ce lo siamo dette tante volte, facciamo più fatica a lavorare con i genitori che non con i ragazzi. Sì, le famiglie oggi sono delle famiglie in qualche modo che non hanno degli strumenti, è un po' un paradosso perché rispetto a quelle che sono le informazioni, le conoscenze che possono arrivare anche dai media, quindi tantissime informazioni su ogni ambito, ciò nonostante però nei genitori di oggi sono dei genitori senza proprio una valigia di lavoro, manca un po' quel senso di comunità che avevano invece ad esempio le famiglie del passato, quel senso comune anche di responsabilità nella crescita del proprio figlio, quindi ci troviamo con delle coppie genitoriali che sono in qualche modo isolate rispetto alla famiglia d'origine, portano con loro comunque un bagaglio di esperienze, di rappresentazioni, devono essere genitore in quanto figlio, quindi sia il padre che la madre, hanno a che fare con tecnologie che come ogni novità spaventa un po' l'essere umano e quindi ci sono poi le varie strategie che vengono intraprese, la fuga, quindi evitiamo assolutamente di toccare gli smartphone, i tablet, vietiamo l'accesso ai social eccetera eccetera, oppure dall'altra parte un uso non corretto che porta poi ad essere un modello scorretto nei confronti dei ragazzi, quindi i genitori in affanno, io nella mia attività clinica quotidiana posso confermare che fanno molta fatica, ciò nonostante però ci sono appunto delle figure, dei professionisti che sostengono le famiglie, la scuola è il contesto privilegiato in cui i ragazzi vivono quotidianamente le loro esperienze, hanno i loro primi successi e le loro prime cadute. E poi abbiamo lo sport dove inevitabilmente, soprattutto se parliamo di uno sport di squadra come quello della pallavolo, i ragazzi vivono non solo l'esperienza del successo e dell'insuccesso, ma l'esperienza dell'impegno, della condivisione, del sentirsi gruppo. Confrontandosi però con dei modelli, i modelli sono gli educatori, sono gli istruttori, tecnici, sono le figure adulte che ruotano intorno ai ragazzi, quindi non solo i genitori, ma per fortuna se vivono questa esperienza anche al di fuori, extrascolastiche, i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con altre figure adulte. Certo è che dobbiamo andare in qualche modo sulla stessa via, comunque avere in qualche modo la stessa idea di azione pedagogica, di ciò che è lecito, di ciò che non è lecito, di ciò che è corretto o no. I genitori sono, io parlo anche da mamma e Emanuela lo sa benissimo come preside dei miei due figli, insomma, quanti errori si possono commettere quotidianamente nell'essere genitori. E non è un mestiere facile, diciamo. E non è un mestiere facile, ecco, è un mestiere, è una crescita, è un percorso che si fa in evoluzione accompagnando i figli, quindi si cresce come genitori e contemporaneamente si crescono i figli, quindi è ancora più complesso come strutturazione. Certo però non mancano in qualche modo quelli che sono gli strumenti che possono essere acquisiti, quindi non è che i genitori non hanno strumenti e li lasciamo lì da soli. Ecco, l'ascolto è sicuramente uno degli aspetti più importanti, su cui i genitori devono un attimo tornare a rallentare, a soffermarsi. Io dico sempre, osservate, oltre al comportamento c'è un'emozione, è l'emozione che va ascoltata, che va accolta. Proprio ieri parlavo con dei genitori e facevo questo esempio, bisogna sintonizzarsi, come facevamo una volta con la radio, su quella che è l'emozione che il bambino, che il ragazzo sta provando e restituirgliela, mandargli un feedback. Ecco, esatto, bravissima, empatia. Cioè io ci sono, ho compreso che tu sei agitato, sei preoccupato, sei arrabbiato. Io ci sono e giustifico la tua emozione, non la nego, non la castro. Noi spesso cadiamo nell'errore dicendo frasi del tipo non ti devi arrabbiare, non devi essere triste. Ma come facciamo a spegnere un'emozione? Come facciamo? Le neuroscienze ce lo insegnano ogni giorno, ci sono delle aree del nostro cervello in cui le emozioni nascono e noi non possiamo impedire le emozioni, ci servono per sopravvivere in quanto animali. Quello che noi come adulti possiamo fare con i ragazzi è quello di dire puoi provare quell'emozione, io se vuoi ti aiuto nel gestirla, nel gestire l'intensità di quell'emozione per non portarti a mettere in atto dei comportamenti che poi possono essere appunto dei comportamenti di problema. Quindi in qualche modo è un discorso molto ampio e l'ascolto per me è una delle armi a favore sia dei genitori che di tutti gli altri adulti che hanno a che fare con i ragazzi. Una cosa che mi sento di dire sempre ai genitori è che i bambini e i ragazzi devono vivere le emozioni. Troppo spesso mi capita di vedere i genitori, soprattutto con i bambini piccoli, quindi iniziamo già molto presto a bloccare l'emozione. Il bambino piange a un capriccio, si fa di tutto per evitare, non si sopporta che il bambino piange. E invece no, bisogna cogliere l'emozione e accompagnare il figlio in questa scoperta anche dell'emozione. Esatto. Io fermo un attimo perché vorrei concludere il giro delle prime domande e poi sicuramente torneremo su questo argomento perché a proposito di conoscere se stessi, conoscere le proprie emozioni, sviluppare empatia, tutto ciò è un bagaglio che a un ragazzo ovviamente agevola poi quello che è il ruolo delle relazioni sociali e proprio nelle relazioni sociali si innesta lo sport che è diciamo uno dei valori aggiuntivi che insomma una famiglia, un genitore ha, proprio per insegnare ai propri figli sia la disciplina, sia il rispetto delle regole, ma soprattutto per avviarlo su un percorso di crescita. Allora come può lo sport, nello specifico, questo lo chiedo proprio a Ivano Calabrese, come può lo sport e la pratica sportiva aiutare un ragazzo nel gestire, nel migliorare la gestione delle sue relazioni? Diciamo che il terzo elemento oltre scuola e famiglia è quello, lo sport che abitua la persona sia dall'età più giovane, noi abbiamo ragazzi che frequentano le nostre palestre dall'età di 5 anni con il cosiddetto mini volley fino all'età superiori, li abitua alla condivisione di obiettivi, a rispetto di regole, allo stare insieme agli altri, ad essere squadra, quindi a lavorare con una precisa linea guida, seguire dei modelli come diceva la psicologa, quindi seguire i loro allenatori e questo tipo di allenamento è molto utile sia per quanto riguarda poi la vita scolastica ma ancora di più nella vita lavorativa. Io personalmente ho avuto esperienze di questo tipo e vi assicuro che nei miei tanti anni di lavoro nell'ambito delle imprese ho riscontrato quotidianamente questo parallelismo tra la squadra sportiva, tra la pratica sportiva e il lavoro, perché ci si abitua a lavorare insieme, a far gruppo, ci si abitua a gestire le sconfitte, a imparare dai momenti critici, a dare la giusta valutazione ai momenti invece di esaltazione, alle vittorie ed è diciamo ormai abbastanza anche consolidato il fatto che una persona che abbia praticato attività sportiva nello stesso periodo ha anche dei buoni risultati a scuola e viceversa. Noi abbiamo diversi ragazzi che stiamo seguendo, che accompagniamo nelle loro attività anche extrascolastiche e vogliamo sempre di più essergli a fianco proprio per massimizzare questo valore della pratica sportiva per rendere di un beneficio che gli segua per tutta la vita, sia scolastica che lavorativa. Benissimo, e parlando proprio di sport e del ruolo che ha lo sport per l'avviamento nel mondo del lavoro, noi abbiamo chiamato in campo anche un vostro riferimento ed è il presidente del gruppo di Cosimo, il main sponsor della CETIAS Volley Montesilvano che vuole proprio portare un suo saluto ai nostri telespettatori ma anche ai ragazzi che sono poi gli sportivi della vostra squadra. Sentiamolo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, anche io vorrei dare il mio contributo sulla logica che unisce la famiglia, l'azienda e lo sport di cui il volley è evidentemente la massima accettazione rappresentativa di questa possibilità. Tutte le persone che stanno in un ambito per qualsiasi ragione stanno insieme hanno bisogno di collaborare, la collaborazione può nascere solo se c'è un gioco di squadra, ognuno sa esattamente quello che deve fare, perché lo deve fare o perché non deve fare determinate cose. Questo permette a tutti di essere utili alla vittoria finale, al raggiungimento dell'obiettivo che è principalmente un obiettivo legato e prefissato a quelli che sono obiettivi più grandi, ogni micro obiettivo è figlio di un obiettivo più grande evidentemente. Nella squadra noi abbiamo il massimo del risultato perché l'azione di uno è un'azione che coordinata con quella degli altri permette di raggiungere la vittoria, di vincere un campionato, di fare qualcosa di importante. Nell'azienda è la stessa cosa, chiunque faccia una funzione all'interno dell'azienda fa sì che quell'azienda sia un'azienda di successo o sia un'azienda che ha dei problemi da gestire e quindi il problema per eccellenza è il conto economico che non torna. Non tornando il conto economico, la qualità della vita delle persone, le problematiche che le persone che sono all'interno dell'azienda dovranno affrontare sono evidentemente delle azioni negative che non fanno certamente bene. Nella famiglia è uguale, se ognuno di noi all'interno della propria famiglia, figli, mogli, mariti e anche il contesto extra familiare è utile, fa delle cose sinergiche l'uno per l'altro, è una famiglia che vive bene, è una famiglia che fatica poco ad affrontare tutte le difficoltà della vita. Nella squadra e soprattutto per i giovani la cosa più importante che noi dobbiamo, abbiamo il dovere di trasmettere alle future generazioni è quello di capire che una squadra non basta solo saper cosa c'è da fare, qual è il proprio ruolo, ma bisogna avere competenze, bisogna avere desiderio, bisogna avere qualcosa che muova le persone verso quel benedetto obiettivo. Quindi la vittoria con dei buoni giocatori la può fare chiunque, ma uno solo vince il campionato, quello che nel tempo mantiene sempre di più attivo il desiderio dell'obiettivo, quello che gioca meglio come squadra, anche se individualmente potrebbero non essere i migliori del campionato, ma il gioco di squadra può far sì che anche una squadra che non sia la migliore può vincere a dispetto di quella che ha le migliori individualità. Cioè lo stare insieme, la squadra è qualcosa che veramente può ottenere qualsiasi tipo di risultato, può raggiungere qualsiasi vetta. Credo che questo Natale possa ricordarci che noi facciamo parte di una grande famiglia che è quella del mondo, dove tutti quanti vorremmo vivere meglio, ma ognuno di noi deve essere in grado di fare bene il proprio ruolo. E poi questo Natale, ricordiamoci che facciamo tutti parte della nostra famiglia, ricordiamoci che le cose belle sono belle, gli affetti sono cose rare e le dobbiamo anch'esse coltivare facendo la nostra parte e fare in modo che anche questo Natale, queste feste vengano trascorse nel miglior modo possibile, con la serenità maggiore che possiamo mettere in campo, facendo la nostra parte anche in questo. Cioè piccoli gesti che permettono all'altro di apprezzare la nostra presenza, che permettono all'altro di dire ho piacere di stare con te e quindi ne approfitto per fare gli auguri a tutti, alla squadra e a tutte le persone che ci ascoltano e anche a voi che siete nello studio. Saluti, ciao. E dopo gli auguri di Antonio Di Cosimo, torniamo a parlare invece di quello che è il ruolo della famiglia. Allora dicevamo che sicuramente è un ruolo chiave, noi sappiamo che la professoressa Ciaccio ha un decalogo del buon genitore. Quali sono i punti essenziali di questo decalogo? Magari chi è interessato se lo va a cercare? Un decalogo che ho scoperto come genitrice quando, in un momento di crisi, ho trovato nel decalogo di una psicologa Paola Di Blasio, sono dieci punti, ne leggerò alcuni perché sono appunto tanti. Il primo è adattarsi al ruolo di genitore. Spesso noi genitori pretendiamo fin da piccoli che i bambini si adattino ai nostri tempi e alle nostre esigenze. Già questo è un primo errore perché, e io la ritengo una violenza sul bambino, agli stessi tempi di sonno, il bambino va rispettato già da appena nato in queste cose. Considerare i figli come individui a sé stanti. Questa è una cosa importantissima perché spesso e volentieri noi abbiamo delle aspettative che sono nocive per i nostri figli in quanto proiettiamo su di loro dei sogni, delle speranze che magari invece distano da quelli che sono gli obiettivi di vita dei nostri ragazzi e li condizionano negativamente. Porre limiti e confini generazionali. Un errore che io ho notato spesso nella mia vita scolastica è che a volte i genitori si comportano nei confronti dei figli come amici e non come i genitori. Quindi non c'è il riconoscimento di quell'autorità e che poi si proietta anche nel mondo della scuola. Se non riconosci l'autorità del genitore non riconoscerai poi neanche l'autorità del professore, del dirigente e così via. Mettersi in discussione e attivare il cambiamento. Tante volte noi ci poniamo nei confronti dei nostri figli come se noi abbiamo comunque ragione per la nostra età, per la nostra esperienza e loro hanno torto. Senza osservare, come diceva la dottoressa di richiedere i loro sentimenti, le loro aspettative, le loro speranze. Allora tante volte dobbiamo fare un passo indietro e riconoscere anche il nostro errore perché anche questo è educativo. E a questo proposito io vorrei far intervenire proprio la nostra psicologa che insomma ha lungo lavorato nelle scuole e a proposito di scuola il periodo della pandemia è stato un periodo che ha messo a dura prova sia i ragazzi sia le loro fragilità ma soprattutto anche le famiglie che hanno come dire dovuto gestire questi momenti di formazione a distanza. Allora oggi come oggi che ci si affaccia ad un'invernata non sapremo come andrà a finire, speriamo insomma di non essere di nuovo chiusi in un lockdown. Come possono le famiglie, posto che comunque resta sempre un ruolo difficile, come possono, quali sono i consigli che lei si sente di dare alle famiglie, ai genitori proprio per cercare di da una parte ancora arginare quelli che sono stati i problemi dello scorso anno ma anche aiutare insomma i propri figli nel percorso di scelta e soprattutto in questo anno scolastico? Sì, allora se parliamo di un orientamento quindi di accompagnare i ragazzi che stanno terminando quest'anno la scuola, la scuola media, la scuola secondaria di primo grado e si dovranno quindi affacciare il prossimo anno nella scuola superiore o anche i ragazzi in uscita dalla scuola superiore verso il mondo appunto professionale o piuttosto nel proseguo degli studi universitari. Allora se parliamo di orientamento oggi è diciamo un po' delicato come argomento perché? Perché non abbiamo la stessa possibilità o perlomeno in un'organizzazione che si sta evolvendo di giorno in giorno, diamo la possibilità ai ragazzi di vivere le scuole superiore, i famosi open day che permettono ai ragazzi di fare esperienza diretta nelle varie scuole. Quindi questo avviene, in alcuni casi si stanno attivando appunto per ritornare un po' all'open day fisico, vivo, quindi con i ragazzi che possono entrare organizzando tempi e modalità, dall'altra parte si fanno degli open day online. Stesso discorso per le università. Allora quello che mi sento di consigliare alle famiglie è di dare fiducia, di dare fiducia agli adulti, in particolare ai docenti che conoscono i ragazzi e con cui hanno fatto un percorso anche abbastanza lungo come tempo, pensiamo ai ragazzi delle scuole superiori. Diamo ascolto ai ragazzi, a quelli che sono i loro desideri, i loro sogni, cerchiamo in qualche modo di indirezzarli a esperienziare quello che è il loro futuro. È chiaro che i ragazzi, e questo è alla luce da sempre nel sistema scolastico italiano, che i nostri ragazzi di 13-14 anni sono giovani per poter scegliere in qualche modo quella che è la scuola successiva. Scuola successiva che, come ha detto appunto la dottoressa Ciacio, è molto differenziata dal tecnico al professionale al liceo e quindi è difficile chiedere ad un ragazzo di 13-14 anni che cosa vuoi fare da grande e quindi poi accompagnarlo nella scelta. Quello che mi sento di dire è di attivarsi dando fiducia alle scuole, facendo sì che i ragazzi possano fare delle esperienze direttamente nelle scuole e nelle università e dando ascolto ai ragazzi a quelle che sono le loro predisposizioni, le loro potenzialità. Benissimo, grazie. Siamo davvero in chiusura. Un'ultima domanda. Scuola, sport, lavoro, in due parole. Lo sport quale ruolo ha in questo momento? Come dicevo prima, chi ha praticato pratica attività sportiva ha anche degli ottimi risultati mediamente sia nel mondo del lavoro che anche nell'abitudine alle relazioni sociali. Quindi io dico praticate sport o comunque fate un'attività extra scolastica che comunque riempia quella parte di personalità che nella scuola, nella famiglia riescono a completare. Avremo modo sicuramente nelle prossime puntate di tornare su questo argomento. Il tempo a nostra disposizione è davvero terminato. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata di Eleviamoci. Arrivederci.